andiamo ad aprire signori il nuovissimo elite trainer box di spada e scudo dati il pack di energie il codice regalo i divisori bellissime i nostri ottobec alo alo partiamo con il primo pack codice regalo vediamo cosa ci vedrà il primo pack solamente una carta rara rampa raro mi siamo male mi siamo male andiamo snorlax e abbiamo un po' di 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 Poche kits, guzzly, male Raolo, ma male, 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 non è il gel di amoletto, Grazie, 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 grazie. E' una carta B, la prima carta B. Speriamo, speriamo bene, dai, 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 dai. Cicrafoglia, grosse energie sui. Balfoy, Hulu, Jolti, Salandit, Globopus, Ulpix, Reverse e... Uh, signori, Zacian B. Uh, bellissima. Bellissima. Mettiamo come sfondo. Insieme all'altra carta B. Mamma signori. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Continuiamo, continuiamo. Dopo lo Zacian B. Un bel codice regalo. Sword and Shield. Tricca 4. Vitality Band. Haunter. Tuakai. Kufant. Baltoin. Salandit. Sponica. Mincino. Seeking Reverse. E questo non è neanche il B. B. Normal. Ci vengono altri due pecc. Vengono altri due pecc. Allo, 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 guanda. Hoppo. Poker Gear 3.0. Sud Voodoo. Salandit che esce in tutti i pacchi. Bonita. Sublu. Glypook. Trednav Reverse. E Raichu. Raichu. Andiamo, signori, con l'ultimo pecc. Speriamo bene. Forza Lavelos. Gold 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 Air Balloon. Pocky Kit, Hitmore, Dattoy, Chinchou, Crebby, Mincino, Pony Radicale, Orbitly e lo stesso Drumped Prima, maledetto Drumped! Signori, l'unboxing è terminato, questa è la carta B, e questo è il bellissimo Zacian V Full Art, bello ragazzi, non è andato male, meglio di nulla, speravamo nella Gold, continueremo la nostra caccia! Grazie! Grazie a tutti!